Qui sembra acqua fresca, sono tre mesi. Ho visto che hanno scelto l'ultimo assessore al bilancio, un esperto di finanza locale. Se me lo chiedevano, l'ho detto, avevo proprio io un esperto di finanza locale. Abbiamo i parcheggiatori abusivi qua che fanno i due euro di finanza locale. Questo è tutto, dopo tre mesi. Poi è arrivato un leghista lì, come si chiama? Un nome curioso, insomma, come tanti leghisti. Si è presentato, dice che vuole sciogliere tutte le società a partecipare, tutti i ladri. Questo sarebbe il contributo di rinnovamento della politica. Mi sarei aspettato come assessore al bilancio del Comune di Roma un docente di economia, Ittor Vergata e la Sapienza. Un uomo del sistema bancario, delle imprese. Siamo che ne hanno provati parecchi, no? Ne hanno provati, ma in queste condizioni anche una persona normale fa fatica ad impegnarsi.